Musica Ciao, sono Marisa e oggi preparerò dei biscotti con noci e ovetta. Per questa ricetta ho scelto una farina selezione denti, una farina per dolci che quindi li rende particolarmente soffici e friabili. Per questa ricetta ho bisogno di noci, uvetta, miele, lievito, margarina, uova, latte e zucchero. Inizio col mettere la farina all'interno di una boule e unisco la margarina precedentemente sciolta, lo zucchero, due uova e il lievito. Unisco gli altri ingredienti. Musica Ottenuto da parte del latte nel caso l'impasso non fosse sufficientemente morbido, ma in realtà sono soddisfatta della consistenza quindi non lo aggiungerò. Ho creato due filoncini e li ho lasciati riposare in frigorifero per 30 minuti. A questo punto li vado a spennellare con un tuorlo d'uovo e li infornerò per 20 minuti a 200 gradi. Musica Sono passati 20 minuti quindi adesso li vado a tagliare in modo da farli biscottare e li lascerò ancora dentro per 10-15 minuti. Musica I biscotti, noci o etta sono pronti per essere gustati con un buon bicchiere di vin santo. Grazie per avermi seguita e alla prossima ricetta. Musica 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 Musica